Anche la città di Capaccio Pestum mira alla salvaguardia della specie marina caretta caretta e del suo habitat. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Franco Alfieri, ha accolto positivamente la richiesta dell'associazione Naturart, presieduta da Alfio Giannotti, per il progetto volto al monitoraggio, alla tutela, all'informazione e soprattutto alla sensibilizzazione dei cittadini a salvaguardare le tartarughe marine e i cetacei. Il litorale di Pestum, si legge nella delibera, rappresenta un'area di alimentazione di estrema importanza per le tartarughe marine presenti e la salvaguardia dell'ambiente rappresenta un'applicazione del principio di sviluppo sostenibile per l'intero territorio. L'ente Capaccese concederà dunque all'associazione Naturart il patrocinio morale per la lodevole iniziativa. Allo scorso anno il Cilento ha registrato nidificazioni da record su diverse spiagge della costa cilentana, rappresentando un evento di grande valore scientifico e conservazionistico. Il numero dei nidi stimati nella scorsa estate sono un segnale importante che fa ben sperare per il futuro. Per questo è importante puntare su progetti di salvaguardia e di tutela di questa specie a rischio estinzione, incentivare un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e al tempo stesso promuovere a livello territoriale iniziative di informazione e sensibilizzazione coinvolgendo turisti, le associazioni, le comunità locali, le amministrazioni e i pescatori.